Ciao ragazzi, volevamo ricordarvi io, Ferdinando Ferrametrano e Irina Tirdea Iris TV che dal 28 di agosto, il giorno 28 agosto, saremo al Parco Grignetta di Ballabio, provincia di Lecco quindi siete tutti invitati dalle ore 16 del pomeriggio e non mancate perché ci sarà spettacolo per clown, per i bambini e non solo, per sfilate, serate di canto, di ballo, di sfilate e facciamo Iris Talent Show, tra le montagne e i laghi, ecco qui, immersi nella natura tutti in sicurezza, la cosa più importante Green Pass ragazzi è per entrare è molto importante il Green Pass, quindi non mi raccomando anche perché mi sono vaccinata apposta non solo, ma anche perché bisogna stare in salute tutti assolutamente, quindi non mancherà musica di qualità avremo anche la nostra grande soprana Elena Martiemianova che ci arriva direttamente dalla capitale, da Roma quindi anche musica di un certo livello il nostro Iris Talent Show, quindi i nostri cantanti, ballerini il grande maestro Salvatore Gentile, direttamente dalla bellissima Sicilia a presentare la sua mostra d'arte, anche le sue sculture avremo anche body painting per piccoli, più grandi, di tutto e di più non manca la mia sfilata di moda Iris, verina Tirdea e perché no, un grande concerto stavolta del nostro Ferra Metrano insieme però ad altri miei amici ricordiamo Cisla e non solo, quindi tante cose vi aspettiamo qui io l'invito l'ho fatto a tutti, a tutti quelli che io conosco con la quale ho lavorato, io vi ho invitato se non venite me la segno grazie 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 a tutti.